Io credo che la Lega non sia stata per niente chiara, perché se il ritiro dei loro emendamenti significa votare gli identici presentati da un partito di opposizione, credo che ci sia qualcosa di particolarmente contraddittorio in questo atteggiamento, per cui non mi pare che ci sia per nulla chiarezza. Anzi, io ritengo che il comportamento della Lega sia un comportamento molto grave, che mina una delle misure più importanti del governo, tant'è che probabilmente domani o nei prossimi giorni comunque ci sarà un Consiglio dei Ministri in cui si estenderà il Green Pass, per cui l'atteggiamento di un partito di governo che vota gli emendamenti di un partito di opposizione che vogliono eliminare il Green Pass è qualcosa di gravissimo e di inaudito. Si credo che non ci siano problemi solo nella maggioranza, ma ci siano problemi anche nella Lega stessa, perché se i Ministri di Salvini votano un provvedimento e invece i parlamentari di Salvini cercano di affossare quel provvedimento è evidente che c'è un problema all'interno della Lega e in maggioranza.